State cercando un deck che faccia del controllo board una prerogativa essenziale? Giocare con solo i dieci don vi fa sentire ogni giocata stretta e necessitate di averne altri a disposizione? Quale sarà il leader che farà al caso vostro rispondendo appieno alle suddette esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo entrati ufficialmente nell'era di OP04, che ha apportato grandi novità al meta del gioco. Infatti Intriga ha introdotto dei leader che hanno in comune tra essi la stessa caratteristica, ovvero essere bicolori, e nella lista dei capitani i quali panni vestirete match dopo match, uno ha attratto particolarmente la mia attenzione, ovvero Doflamingo. La seconda versione del monocromatico blu ha disotterrato una tipologia di personaggi che fino ad ora nel gioco hanno visto, unicamente però nel lato verde, un blando impiego. Mi riferisco ovviamente ai film. Infatti con la versione attuale dell'ex membro della flotta dei sette, i protagonisti del film Red e Gold potranno essere utilizzati nel migliore dei modi, scatenando contro che gli si parerà innanzi tutta la loro forza distruttiva. Oggi quindi vedremo come questo leader ed il suo mazzo funzionano, analizzando le meccaniche che muovono ogni passaggio del mazzo, che se utilizzate al meglio vi permetteranno di schierare quante più fonti offensive e dallo stesso tempo difensive nel minor tempo possibile, avendo a supporto inoltre una fase counter costantemente attiva. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Doflamingo verde e viola, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo al solito dal leader, che con i suoi 5000 punti forza alla fine del vostro turno vi permetterà di ripristinare i due don pronti per essere utilizzati in fase di counter. Inoltre, come ogni carta tipica di questa categoria, essendo il fenicottero un bicolore, egli avrà quattro vite a supporto. La decklist in questione sarà una fiera del vantaggio board, con conseguente tratto control, e vedrà la quadruplice copia di Fiesta come sercino dei tratti film, Chopper, Usopp, Nami, Brook, Uta e Luffy a costo 7, il terzetto di Tesoro, doppia copia per Sugar e Doffy a costo 10, e la sola presenza di diamante per il comparto character. Mentre per gli event si avranno le quattro spiderweb, le quadruplici coppie di Thunderbagua, Pan Gibson, Hell's Judgment e Union Armada, e rispettivamente una sola Paradise Waterfall, con The Weak Don't Have the Right to Choose How They Die, che andranno a chiudere la profile. Le carte che costruiranno una delle sinergie migliori a livello giocato saranno certamente Luffy a costo 7, con l'entrata di Uta subito dopo. Lo stesso Luffy vi permetterà, se la cantante non sarà presente in mano, di interagire con i Brook, che a loro volta vi permetteranno di far scendere in campo gratuitamente, o una Nami, che sarà il motore rombante dell'intera lista, o Usopp, che possedendo forza pari a 5.000 minaccerà per quel che basterà il leader rivale. Come già accennato, oltre alle Nami avrete anche Buena Fiesta, che non solo vi permetterà di cercare carte contratto film, ma all'occorrenza vi salverà in fase difensiva con i suoi più 2.000 punti di counter. Inoltre saranno presenti gli elementi Stallo, come le Sugar, i Chopper, le stesse Uta, i Doffi a costo 10 e per gli event i Pang Ibson, che agiranno sullo stato delle creature avversarie in campo, fornendovi respiro all'occorrenza in fase difensiva o permettendovi di bersagliare mori rivali durante il vostro turno. In più, se sarete a corto di carte da giocare, con Iguil tesoro potrete pescarne due, privandovi di due Dawn, o costruire ulteriori blocchi con diamante, che oltre ai già presenti Uta e Luffy, vi potrà tornare utile sia in attacco che difesa. Infine, se vorrete salvaguardare alcune delle vostre risorse fondamentali durante il turno avversario, i Thunderbagua, assieme al Paradise, gli Spiderweb, gli Armada e la monocopia di I deboli non hanno diritto di scegliere come morire, vi forniranno un grande supporto allungando la durata della permanenza di alcuni dei pezzi più importanti del deck. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Dovrete combinare quante più volte possibili gli effetti dei Luffy e delle Uta, cercando, in casi non poi così tanto straordinari, di utilizzare al posto delle Idol l'altra figura dello spettacolo, ovvero Brook. Ciò vi darà la possibilità di utilizzare quanti più character possibili, salvandovi Dawn davvero preziosi, che vi torneranno più che utili, ve lo posso garantire nelle zone centrali e finali di un incontro. Per la fase offensiva ci saranno molti personaggi che assolveranno allo scopo, vedasi i già menzionati Usop, Brook, Nami, Diamante, Tesoro e Doflamingo, sia leader che a costo 10, che ogni volta sferreranno un assalto faranno tremare, e non poco, le difese rivali. Per quella difensiva invece possiederete lo stesso Diamante, le Uta e i Luffy, che non andranno al di sotto dei 5.000 di valore di forza, quindi essi rappresenteranno dei muri piuttosto alti da superare per chi vi giocherà contro. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo i Fiesta, i Luffy, le Nami, un Tesoro e un qualsiasi Event. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup ve la vedrete dura contro le Rebecca e, sorpresa delle sorprese, i Crocodile Blue, grande rivelazione di questo 0-4. Non sottovalutate ovviamente gli Zoro e i Barba, leader che incredibilmente continuano a performare anche in Kingdom, e i Queen, che sembrano il più sottotono dei vari protagonisti di questo set, ma sono certo avranno molto da raccontare. Per il resto procedete, come al solito, con cautela. Per la win condition, il mazzo in questione seguirà una strada piuttosto tortuosa, fatta di controllo spietato e continuo. Più controllerete le giocate avversarie, più avrete chance di mettervi in tasca la vittoria. Se invece volete una versione facile, andate di Doffi a costo 10, Tesoro e quanti più ce ne sono che possono far male, e spaccate il tavolo da gioco a suon di fili nei pugni. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno le Uta, con Luffy al seguito, i Fiesta, gli Spiderweb, i Gibson, i Brook e i Tesoro. Per gli altri ho visto liste che non ne hanno fatto una priorità, ma che si sono comunque piazzati ai piani alti della classifica nel torneo di riferimento. Infine, per la fase Counter ci saranno diversi event che vi aiuteranno a far sopravvivere i personaggi presenti sul terreno, o a salvaguardare le vite del leader, con i Buena e i Chopper che avranno i loro più 2000. Tenete d'occhio comunque l'evento con il titolo lunghissimo e soprattutto le Armada, che se utilizzate al momento opportuno potranno davvero piantarsi in mezzo alle ruote della strategia avversaria. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Doffy parte per primo, dato i suoi diversi drop dispari, ma anche per secondo non soffrirà alcunché, dato che potrà, con due Don, impiegare eventuali Sugar dalla mano, tornando ad averne altri due pronti alla fine del turno da utilizzare in caso di attacco subito. In più ricordate una cosa fondamentale, se avrete tre Don aperti a fine turno, appena passerete la mano all'avversario ne possiederete cinque, quindi regolatevi anche in caso doveste giocare dalla mano un eventuale event come, i deboli non hanno diritto di scegliere come morire, eccetera eccetera. Concludendo, se avrete intenzione di giocare questo leader, assicuratevi di comprenderne appieno il funzionamento, perché, almeno così è stato per me, all'inizio ho riscontrato qualche difficoltà nel farlo girare, ma una volta prese per bene le dinamiche che lo muoveranno, vi divertirete tantissimo nel manipolare, proprio come fa Doffy, le varie giocate del vostro avversario. E voi avete già testato le meccaniche di questo leader? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se volete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.